Tragedia a Palermo. Recuperati i corpi di cinque dispersi del naufragio del Bayesian. Un mistero ancora da risolvere. Il naufragio del lussuoso yacht Bayesian a largo di Palermo ha scosso il mondo intero. Dopo tre giorni di ricerche incessanti, i soccorritori hanno finalmente recuperato i corpi di cinque dei sei dispersi. Ma il mistero rimane. Chi è ancora intrappolato nel relitto? E cosa ha realmente causato questa tragedia? Prima di approfondire i dettagli di questa drammatica vicenda, assicurati di iscriverti al canale e condividere questo video con i tuoi amici. Resta aggiornato sulle notizie più sconvolgenti del momento. Secondo le ultime notizie riportate dalla BBC, i corpi di quattro vittime sono stati trovati all'interno del veliero, nascosti dietro mobili e materassi in una cabina del ponte inferiore. Un quinto corpo è stato individuato, ma non ancora estratto dal relitto. Le operazioni di recupero riprenderanno domani, nella speranza di ritrovare anche il sesto disperso. Il bilancio delle vittime sale così a cinque, con due persone ancora mancanti all'appello. Il corpo del cuoco Riccardo Thomas, una delle prime vittime identificate, era stato recuperato poche ore dopo la tragedia. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del naufragio continuano, con gli inquirenti che stanno ascoltando testimonianze cruciali per capire cosa abbia portato all'inabissamento dell'imbarcazione in soli pochi secondi. Tra i dispersi vi sono nomi illustri come il tycoon britannico Mike Lynch e sua figlia Hanna, il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Blumer con la moglie e il legale di Lynch, Chris Morvillo, insieme alla moglie Nada. I sopravvissuti, attualmente ospitati in un hotel vicino, stanno fornendo dettagli importanti agli investigatori. Cosa pensi possa aver causato questa tragedia? Lascia un commento qui sotto e facci sapere la tua opinione. E non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere gigli aggiornamenti su questa storia e altre notizie importanti.